Tecnozoo. Voglio il meglio. Da quando abbiamo iniziato a utilizzare tutta l'integrazione Tecnozoo con i vari prodotti e con tutta la parte integratoristica, gli animali hanno risposto molto bene e siamo passati da una media di circa 27-28 kg di 5-6 anni fa agli attuali 35 kg, con valori in termini di qualità e di proteina molto alti. Viaggiamo sui 4,10 di grasso e 3,40 di proteina. Abbiamo riscontrato un miglioramento della carica batterica grazie ai sanitizzanti e disinfettanti che la Tecnozoo ci ha fornito. Negli ultimi due mesi la carica batterica è sempre stata sotto i 10.000 punti, quindi siamo molto soddisfatti. Il prodotto che ci è stato molto aiuto è il mix ferme, che lo utilizziamo negli animali freschi post-parto e viene utilizzato quindi per singolo capo e non nell'unifed, nel caromiscelatore. Con questo approccio riesco a intervenire sugli animali freschi e che quindi necessitano di una quota energetica in più rispetto ad altri. Un altro prodotto che ci è stato di grande aiuto è l'Agecon, che ci viene consegnato in diverse formulazioni in base alle esigenze. Attualmente stiamo utilizzando l'Agecon Plus, che è un formulato di acidi, con dentro anche dello zinco. Il gelato ci ha aiutato molto nella gestione degli animali, soprattutto nel periodo estivo. I risultati li abbiamo visti in termini di cellule somatiche e di sanità dei piedi. Un altro prodotto che abbiamo utilizzato nei mesi passati è stato l'Agecon Yes, un concentrato di acidi con dentro dei lieviti che a livello ruminale hanno messo subito in evidenza i benefici che poi ci sono visti in termini di produzione di latte e di trasformazione in termini di proteine e grasso. Per quanto riguarda la gestione degli animali post-parto, è ormai da un paio d'anni che utilizziamo i boli in calcio. Ci sono stati di grande aiuto perché sono molto più comodi rispetto a una flebo che va fatta per via endovenosa e quindi anche da un punto di vista gestionale c'è risultato molto più comodo poterli utilizzare. Sono dei boli utilizzabili con delle pistole lanciaboli, molto semplici da inserire nella bocca dell'animale e in pochi secondi il lavoro è fatto.